Ciao a tutti ragazzi, io sono Sara e lei è Lundini. Oddio, ragazzi. Adesso non si vede. Lei è deciso. Quando non è capace a fare le cose? Beh, mi lo dammi. Il bastone, hai preso? No, lasciarla. Ragazzi, oggi dovremmo andare a continuare le mappe. Perché a noi ci appartia questa cosa davanti, oggi. Ce ne stiamo guardando. No, 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 questo è dopo. Dopo, dopo, ma che è? Questo, stiamo camminando qui. Noi perché ci facciamo le passeggiate di solito e giro. Allora, ragazzi. Leggilo. C'è scritto. Una nuova missione vi aspetta. Tre mappe dovete trovare. E seguire un tranello vi aspetta. E un tranello vi aspetta. Non è tanto pratica a leggere. Altri indizi vi aspettano. E adesso vi lascio. Ho scoperto. Ho scoprito tutto voi. Filmato signore LM. Fagli vedere se non ci vedono. Che non abbiamo filmato noi perché. Io firmo malissimo. Questa cosa mi mette in fuoco. E' tutta questa la lettera, un po' è no? Si è pure sbagliato per quanto è deficiente. Questa qua non so chi è. Ma noi sospettiamo. Ma c'è qualcosa. Cosa? Una lettera. Raga. Che cos'è? Allora. Noi dobbiamo andare all'albero. All'albero. All'albero no. Al cancello. Eh. Perché all'albero. Dobbiamo fare. Tre. Non scrivo bici perché. Cancello sta qui. Dobbiamo fare. No. Ecco allora. C'è tre passi in là. Tre passi in avanti. No. Ma che. Dobbiamo andare verso in là. Scusate raga c'è una persona. Due e tre. Poi. Ma raga. Qua dentro a sezione è pericolosissimo. Guarda la targa. Ti intergo. Quanto sono brava? Diciotto in avanti. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque, sei. Cazzo. Scusate della parola. Dopo la censuriamo. Tres, sette, diciotto. Non c'è niente. Ci sta prendendo in giro. Ah perché doveva fare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. No ferma gira. Otto, nove, dieci, unito, due, tre, sette, sette, sette. Trovate un'altra. Ma non era la prossima. Metti che qui troviamo il tesoro e l'altra non c'è. Ragazzi questa non è che sto la regino eh. Ho capito. Scusate del video se avviene un po' male ma siamo in due. Non abbiamo il bastone. Noi siamo questi doveva fare cinque là. Uno, due, tre, sette, 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 sette. Ventile. Guardate quanto è bello. Hai visto quanto è bello? No. Stasera poi vi aspetta un'altra cosa. Bulli school. Ho trovato qualcosa. Basta la vista subito. Allora, sono difficili. Ma io guardo su tutti i muri. Sopre. L'inizio comunque era inquietante. Regà, adesso noi abbiamo finito però il tesoro regà non c'è. Perché c'era scritto altri tranelli che aspettano. Quindi non è ancora finita. Non è ancora finita. Allora, secondo me regà, adesso noi il blog lo troviamo. Regà, tutto io, tu segui la mappa, dammi i ragazzi qua. Regà, niente. Allora, dobbiamo andare, noi partiamo da qui. Adesso che abbiamo trovato la mappa. Dritti, dritti, 30, 1, 2, no, da là vabbè. Siamo già lì. Ok, ci siamo. Puoi? Vuoi girare dentro? Perché? Vai. Raga. Dove chiude qua? Sì. Sarà. E raga, non si chiude qua. Vai, vai dritto. Non so se ci sta facendo fare. Tarcheggio, si dice. E allora sarebbe qui giù, raga. Non inquadra la targa perché poi c'è un sole, là ci vuole un botto. Discesa. Discesa. Siamo c'è discesa. Tarcheggio. Vedete? E poi ci lascia qui. Si abbandona. Sulle scale. Magari. No, niente. Il blog credo che finirà qui, ma tra poco vi aspetto un altro blog. Guardate quanti. Io vi leggo il biglietto per un'ultima volta, qual è? Scusate, raga. Non sai leggerle. Una nuova missione vi aspetta. È questa che abbiamo appena fatto trovando questi. Poi, tre mappe dovete trovare e le abbiamo trovate tre. Poi, dove va? Raga, non potete capire. Allora, Matteo, mi sa che viene troppo. Un trenello vi aspetta. Al posto mio. È questo. Oppure gli sarei io. Chi vi sa per simpatico, Matteo? Altri indizi vi aspettano e il prossimo video. Adesso vi lascio o scoprite tutto voi. Firmato signore L. E scoprite tutto voi. Non c'è scritto? Ah, aveva scritto male. Per quanto è cretina? Scrive pure male. La finisci di dire le stesse parole di cretino, deficiente di lui e Sofia. Quanto è cretino? È una parola comune, raga. Sapete cosa significa cretino? Cretino significa che sciocco. Dammi il blog. Scusate. Allora. Allora, vogliamo un po'. Allora, vogliamo un po'. Allora, vogliamo un po'. Papà? Praticamente. Io non riesco a incontrare. Non ce la faccio, non incontrare. Ah, la legge! La faccio in amore. Perfetto. Aiuto. Ok. Allora. Eh. Sara! Ah? Che c'è? Anche se che lo tenne. Regal video. Questa. Adesso faremo una cosa, tipo. Ah, ah, ah. Come cavolo fanno quelli con la telecamera? Io, a malapena, la so reggere. Tu? Ma, ma correggio lei. Regal, non potete capire che puzza qualcosa che fa. Me lo straffi dalle mani, io stavo chiacchierando e praticamente, dopo faremo un altro video, sperando che Matteo ci segua. Anche tre video. Anche tre, vabbè. Vabbè. Adesso, Faremo, entriamo dentro la macchina di nonno, fra un po'. Vabbè, raga, niente, quindi, però, non vi inquadri la targa, perché poi... Non vi inquadri la targa se fai così. Quindi, perché io sto più qua e faccio questo. Ok, Sara, non si vede? Perché io faccio gesto. Che fai? Gesto. Guarda. Capito. Già si vede un po' la macchina. E una Fiat gialla. No, no, di panda, vabbè. Di panda. La casa si vede mezzo dito. Peppe, toglie di panda. Ma passano vicino a un bimbo volante, regà, non so. Eeeh! L'hai passato un trifotto. Gente molesta. Che cosa stai facendo? Mi sto pettinando. Va bene. Fatto. Allora, io oggi con questa maglietta non c'è schifo. Io quella della fila. Tira, pure ieri se l'avevo perché mamma la asciuga tra i secondi quando la lavà. La asciuga subito. Vai, la va, la va. Guardate. Ragazzi. Ci vediamo nella macchina. Perfetto. Vedete ragazzi, la magia. Usciamo, usciamo. Via! Ok. Perfetto. Siamo in casa. Dov'è la gente mole? Eh, 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 eh. Uffi. Io vorrei un cittadino. Spero che... Io direi che il video fin... Ok. Adesso mi apre il video la macchina. Ah, vabbè. Per la scorda. E' un po' fino a questo. Quindi, ciao! Il video finisce qui e... E ciao! Ciao!